Allora una sconfitta lo possiamo dire con pochi attenuanti questa sera? Sì assolutamente, non abbiamo niente di cui parlarne, assolutamente la responsabilità è mia totalmente quindi mi dispiace per quanto riguarda il risultato dove ci vedete sotto di tre gol quindi c'è poco da giustificare, dispiace comunque per i tifosi e per tutto l'ambiente perché chiaramente non si aspettava una sconfitta del genere e quindi purtroppo siamo dispiaciuti. Tre partite, un solo punto all'attivo e già una piccola crisi per il Pescara anche se siamo appena dopo sei giornate? Il problema secondo me era un altro, aspettarsi che le vincessimo tutte sicuramente lo spettacolo visto oggi non è quello che vogliamo fare il Pescara è una squadra giovane che ha bisogno di crescere e di fare esperienza purtroppo questa è abbastanza traumatica visto il risultato ma il Pescara è una squadra che lotterà secondo me per la salvezza perché questo è quello che vogliamo fare quindi volare non basso di più come ho sempre detto quindi chiaramente chi parla di altre cose non vuole il bene al Pescara Più preoccupato per queste due sconfitte consecutive o più invece preoccupato per il gioco che continua un po' a latitare? Ma per tutto, quando perde 3-0 non funziona niente secondo me quindi ripeto non sono qui a cercare alibi quindi c'è la massima serenità nel analizzare una partita una sconfitta che non ci ha visto mai o quasi mai pronti a creare qualcosa nell'altra metà campo quindi siamo dispiaciuti di no per prima ovviamente perché la faccia comunque i ragazzi in campo ce la mettono abbiamo per ripartire, i ragazzi sono primi a non essere contenti e cercheremo di fare assolutamente meglio Rispetto alla gara di Cittadella, sette novità in formazione e come mai questo quasi stravolgimento della squadra? Solo turnover? Beh assolutamente, io ho dei ragazzi appunto bravi che hanno bisogno di giocare qualcuno che è sopra la Trentina chiaramente tre partite consecutive secondo me non l'avrebbero fatto bene chiaramente il campo ha detto qualcos'altro ma rifarei assolutamente le stesse scelte perché i ragazzi comunque ce l'hanno messa tutta Vi siete visti con il presidente Sebastiani dopo la partita? Ma certo, il presidente è la prima persona che è vicina alla squadra è deluso come tutti quanti noi quindi assolutamente lo stesso pensiero Per chiudere nove giorni alla gara con Lascoli bisognerà cambiare qualcosa anche a livello psicologico perché oggi abbiamo visto una squadra dalla tribuna fragile anche sotto questo punto di vista incapace di reagire Sì, andare e iniziare la partita sempre sotto di un gol non è mai il massimo chiaramente il momento è anche quello dove ogni volta succede un episodio negativo poi ci costruiamo la partita quindi dobbiamo assolutamente migliorare questo atteggiamento